Trasportare oggi in collaborazione con Iveco, il tuo partner per un trasporto sostenibile. Sì, ma teniamo i nostri ascoltatori ancora un po' in sospanse e diamo qualche notizia sul mondo Iveco, partendo dal nuovo capo del mercato Italia, cioè Massimiliano Perri, che ha rilevato il timone da Miai Daderlata dopo sette anni di una alta guida del nostro paese. E che tu mi sembra incontrato proprio da pochi giorni. Già, giovedì scorso, proprio presso l'Industria Village, che tra l'altro ha già cambiato veste dopo lo spin-off di Iveco e FPT da CNH Industria. Quindi trattori e macchine agricole hanno traslocato, lasciando tutto il posto ai veicoli industriali e commerciali. Uno spin-off che è stato segnato anche dalla quotazione in borsa di Iveco Group il 3 gennaio scorso, un debutto che segna l'avvio di una realtà industriale solida e di spicco a livello internazionale. Un pure player indipendente con più di 170 anni di storia nel settore, grazie ai suoi vari brand. Sicuramente questa scelta darà nuovo impulso agli straordinari successi di Iveco degli ultimi anni, grazie alla maggiore focalizzazione sulle esigenze del cliente del nostro settore. In tutte le gambe, ma intanto, per quanto riguarda i leggeri, possiamo celebrare la produzione del Deli numero 1.600.000 nello stabilimento di Suzara. Un nuovo record per l'intramontabile veicolo della gamma leggera del brand. Da un successo all'altro, questa volta nei pesanti, grazie alla fornitura ad Amazon di 1.064 S-Way alimentari a gas naturale. I propulsori FPT in DAS e il Cursor 13 a gas naturale sono equipaggiati, ricordiamolo, con serbatoi da 1.052 litri con un'autonomia di ben 620 chilometri. Il primo ospite della giornata è Massimo Revetria, Italy Market e Light Business Line Manager, al quale diamo il benvenuto e chiediamo subito. Allora Massimo, si chiude un anno difficile dal punto di vista delle consegne per le note ragioni relative alla crisi delle materie prime, ma non certo per gli ordini. Iveco degli ha registrato, da questo punto di vista, un ottimo anno, se non sbaglio. Allora, quali sono stati i segmenti che hanno tirato di più? Buongiorno Luca, il daily ha registrato numeri da record, migliorando la quota di mercato di quasi due punti e mezzo rispetto al 2020. Come numero di ordini abbiamo registrato un incremento di oltre l'80% rispetto allo scorso anno. Ma partiamo dall'edilizia, in cui siamo leader grazie alle versioni cabinato, allestiti con cassone fisse o ribaltabili, dove chiaramente il telaio a longheroni e la trazione posteriore offrono garanzia di versatilità e sicurezza. Merita una menzione a parte il cabinato ruota singola, allestito con piattaforma aerea. Qui siamo diventati leader indiscussi in Italia, grazie al lavoro congiunto con gli allestitori italiani, i quali sono riconosciuti in Italia e all'estero come il punto di riferimento per questo segmento. Il freddo e le consegne porta a porta hanno subito un forte impulso, legato soprattutto allo sviluppo dell'ultimo miglio. Qui il daily ha giocato una partita molto importante, consegnando quasi il 18% in più di veicoli rispetto allo scorso anno. E infine è doveroso citare l'importanza del daily nel segmento dell'ocologia. Anche qui il 2021 è stato un anno ricco di successi, soprattutto grazie alle motorizzazioni CNG e alla versatilità della struttura a longheroni. Beh, senti, allora vogliamo vedere quali sono i punti di forza dell'ultima versione dell'Iveco Daily, che è sicuramente un'icona del trasporto leggero. E soprattutto quali, secondo te, sono gli elementi distintivi rispetto agli altri veicoli commerciali? Partirei innanzitutto da una gamma complessa di nuovi motori 2003 e 3000 Euro 6 di Final Eye Duty, Euro 6 e Heavy Duty, senza dimenticarci la vocazione sostenibile del daily grazie al motore CNG da 3 litri. Il nuovo cambio manuale a 6 marce si posiziona al top del mercato per affidabilità e precisione d'innesto, una novità che si aggiunge alle esclusive sospensioni posteriori pneumatiche adattive Air Pro, un plus eccellente in termini di comfort e guidabilità. Infatti si adattano al carico del veicolo per un'esperienza di guida sicura e fluida, facilitando così le operazioni di carico e scarico attraverso la regolazione dell'altezza del telaio. Con la possibilità inoltre di memorizzare l'allineamento con le piattaforme di carico più utilizzate. Abbiamo poi i nuovi sedili iAdaptive in memory foam, completamente riprogettati nella forma dei materiali, per garantire proprietà di assorbimento peso e contenimento e ridurre lo stress di guida. Attraverso la connectivity box, il daily è in grado di mettersi in contatto diretto con la control room Iveco, che riceve dati in tempo reale sul funzionamento del veicolo, permettendone un monitoraggio costante. Il cliente può incrementare l'operatività attraverso attività diagnostiche proattive, l'adozione di misure preventive ed il corretto puntuale svolgimento delle manutenzioni. Inoltre è possibile lanciare diagnostiche in remoto e prendere appuntamento presso un'officina. Il daily possiamo dire che possiede tutti i requisiti tecnologici, dispositivi di sicurezza, assistenza alla guida e servizi di connettività di ultima generazione, che gli consentono di coprire un'ampia fascia di mercato. E in definitiva, la soluzione di trasporto ideale per chi cerca non solo affidabilità e innovazione, ma anche una significativa riduzione dei costi di esercizio. Eh sì, però questo Massimo è anche l'anno del daily elettrico. A quando la presentazione arriva sul mercato e soprattutto ci dai qualche anticipazione? Come anticipato, la presentazione del daily è prevista nella seconda metà di quest'anno, con una line-up che rispecchierà le versioni diesel, furgone e cabinati da 3,5 a 7 ton. Per il momento possiamo affermare anche che con l'introduzione sul mercato di questo nuovo prodotto continueremo a garantire un'offerta completa per soddisfare tutte le richieste del mercato e mission dei clienti, soprattutto in termini di veicoli allestiti. Attenzione, ci sono novità! Nuovo daily, tuo a tasso 0,99%. Offerta valida su tutta la gamma Nuovo daily fino al 28 febbraio 2022. Fogli informativi presso le concessionarie aderenti e salvo approvazione Iveco Capital. Maggiori informazioni presso le concessionarie Iveco o visita il sito iveco.it. Grazie a Massimo Revetrea, ma non finisce qui. Ferruccio Venturoli vi aspetta per la seconda parte della trasmissione per parlare di pesanti con Alessandro Itana. Restate con noi! Trasportare Oggi in collaborazione con Iveco, il tuo partner per un trasporto sostenibile. Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare Oggi on Air e, come promesso, ora è il momento di parlare di track con Alessandro Itana, Iveco, Italy Market, Medium e Heavy Business Line Manager, ovvero il responsabile dei pesanti di Iveco. Alessandro, le vendite dell'Esway sono sembrate una sorta di marcia trionfale, nonostante il difficile periodo legato alla pandemia. Ma qual è il bilancio alla fine del 2021 e quali sono le previsioni? Grazie Ferruccio per la domanda. In effetti il 2021 è stato un anno decisamente incredibile, che si è chiuso con dei numeri straordinari. Il nostro portafoglio ordine ha dato merito all'impegno e alla costanza che tutti noi di Iveco abbiamo impiegato in un anno particolarmente sfidante. Come hai sottolineato, le vendite dell'Iveco Esway sono state un grande successo, in quanto, oltre alla performance dal punto di vista del prodotto, incarna una musa ideale per le personalizzazioni e ha dato vita al mondo di customizzazione, stimolando la fantasia di tutti. Ci presentiamo il nuovo anno con una gamma di prodotti rinnovata, con l'Iveco T-Way, progettato per emissioni off-road più estreme, il nuovo Iveco Esway, veicolo 100% connesso che porta l'efficienza a un livello successivo. Tutti i veicoli che hanno riscontrato un notevole successo fin dal momento del lancio. Alla luce dei risultati raggiunti, le previsioni per il 2022 sono assolutamente altrettanto brillanti. Certamente sarà un anno ricco di sfide e siamo pronti ad inaugurarlo con tutta la tenacia e l'entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono. Iveco è stato il costruttore che più ha creduto nel GNL. L'attuale forte aumento del prezzo del gas sta toccando gli ordinativi? Cambia qualcosa nella strategia di Iveco? Certamente il contesto attuale influenza il mercato, ma noi continuiamo a credere fortemente nel gas naturale, una risorsa preziosa per la decarbonizzazione nel mondo dei trasporti. L'aumento nella fase contingente non sta aiutando il TCO, ma dietro ogni difficoltà dobbiamo imparare a riconoscere le opportunità. Sicuramente il costo alla pompa attualmente può essere critico, ma potrebbe anche aiutare a accelerare il processo verso l'utilizzo più diffuso del bio e l'NG, per cui tutti i nostri mezzi sono già oggi pronti e predisposti. Pertanto la risposta era continuo a essere il gas naturale, l'unica alternativa oggi realmente pronta per garantire sostenibilità e lunga percorrenza. In questo modo si andrebbe anche a chiudere un processo di economia circolare a 360 gradi, in cui tutti crediamo fortemente. The Sway ha rappresentato decisamente uno spartiacque per Iveco, perché è stato capace di entrare nel cuore dei padroncini e non solo. Lo dimostra il successo del Turbo Star e dei tanti allestimenti che si vedono in giro. Ci sono in previsione altri passi in questa direzione, per esempio qualche altra serie limitata? Sì, come hai detto tu Ferruccio, l'Iveco Sway è di per sé un successo, in quanto capace di offrire tanto un mix di prodotto quanto un mix di clienti, un veicolo che ci permette di lavorare su tutto il mercato, dai clienti retail alle grandi flotte. Per questo abbiamo scelto di creare un'edizione speciale dedicata al leggendario Turbo Star sull'Iveco Sway, un veicolo altrettanto iconico destinato a scrivere la storia del nostro brand. Il Turbo Star incarna una memoria storica importante per noi e per i nostri clienti e l'edizione speciale rappresenta un prodotto iconico che si unisce a un altro prodotto mitico, Iveco Sway. Attualmente le macchine sono ordinabili, in edizione limitata, anche se pensate in numero inferiore rispetto alle richieste che stiamo ricevendo. Dunque per il momento i fari sono puntati sull'Iveco Sway Turbo Star Special Edition. Per il futuro mai dire mai. Grazie ad Alessandro Itana, a presto. Grazie a voi. Iveco, da sempre impegnata nella decarbonizzazione dei trasporti, oggi viaggia verso un futuro ancora più green e grazie al progetto di riforestazione mette radici più solide per un futuro sempre più sostenibile. Per ogni veicolo pesante a trazione alternativa venduto, Iveco pianterà un albero nella sua foresta. Maggiori informazioni presso le concessionarie Iveco. Non possiamo chiudere questa puntata dedicata a Iveco senza parlare della Dakar, dove il costruttore nazionale è sempre protagonista. È vero, dopo oltre 8.000 chilometri percorsi in condizioni davvero estreme, attraverso enormi distese di sabbia, dune e canyon, il team Petronas d'Eroi Iveco ha registrato pressioni costanti nella seconda settimana di gara, con tutti i suoi camion nella top 10 della classifica e con Janus van Kastenen che ha ottenuto un eccellente quinto posto contro concorrenti molto esperti. Chiudiamo con la formazione, Ferruccio, perché anche in questo Iveco è impegnata per lo sviluppo del settore, non è vero? È certo, infatti Iveco, GLS Italy e Dedo Driving School presentano un nuovo programma di corsi di guida sicura che si pongono l'obiettivo di offrire una formazione specifica ai conducenti per garantire loro la massima sicurezza e il supporto necessario per l'utilizzo dei nuovi Iveco S-Way alimentati a LNG e BioLNG, veicoli altamente performanti scelti oltre per il conforte e la guidabilità per la propria impronta green. Bene, siamo proprio arrivati al termine di questa interessante e densa puntata, ringraziamo Iveco e in particolare Alessandro Itano e Massimo Revetrea per i loro interventi e naturalmente mi raccomando, stay tuned. Si ringrazia Iveco.